di quello che è successo, un caso di corruzione incredibile all'interno del sistema sanitario rumeno che portò al crollo, alla caduta del governo rumeno, un interregno di sei mesi con un governo tecnico che cercò di sradicare il fenomeno della corruzione che era così diffuso e quindi profondamente radicato nella società rumena da mettere in crisi intera la settimana nazionale, non vi dico come va a finire perché è avvicente come un giallo la visione di questo film. 45 secondi di risalte è un documentario di T. Robbins che racconta la sua esperienza, la differenza di T. Robbins con il suo gruppo teatrale all'interno delle carceri americane. Da anni T. Robbins fa dei seminari con i detenuti, i carceri di massima sicurezza, seminari che durano alcuni mesi, scegliendo i detenuti più estremi, più radicali, più apparentemente irrecuperabili ed è un modo, insomma è un sistema diffuso, sapete anche in Italia ci sono esperienze varie di esperienze teatrali all'interno delle carceri, però le modalità con cui T. Robbins sceglie di lavorare con i detenuti sono davvero uniche e estremamente interessanti. Sì, viene a T. Robbins, naturalmente. Questo è Andrea Stegno, un titolo un po' ritmatico, il titolo originale era semplicemente Marghera ed è un documentario su che cos'è oggi Marghera, che è stato all'inizio, è sorta con la visione di diventare uno dei poli chimici industriali più importanti d'Italia e che oggi è quello che è la cronaca quotidiana, ce ne parla in continuazione. Ed è un film assolutamente intelligento. questo sono due mediometraggi, quello di Guillermo Arraga dura poco più di 30 minuti, è un film di finzione, è scritto e diretto da Viaga, la storia di un gruppo di militari che passa i confini e va in Messico perché ha saputo della morte di un loro ex comunico, riduci tutti dalla guerra di Iraq che vanno al funerale di un messicano che aveva combattuto con loro in Iraq ed è un film ovviamente con una forte pesa di produzione politica oltre ad essere un film estremamente emozionante. Electric Swan invece è un mediometraggio di 40 minuti di una giovane promessa del cinema greco, si chiama Electric Swan, il film in realtà è gelato interamente a Buenos Aires ed è un film impressionante dal punto di vista visivo, quello che fa questa ragazza ed è assolutamente da vedere, non perdetevelo perché sono sicuro che nei prossimi anni sarà una regista con cui dovremo fare i conti. non è finita, questo è un evento speciale, a mezzanotte facciamo vedere i reversi, no non facciamo vedere i reversi, facciamo vedere i reversi a versione antegrale, che cos'è? Qualcuno lo recupererà. Il 2003 a Cannes il film face a scandalo e polemica, era un film violentissimo, con una sorta di compiacimento nei confronti della violenza quasi insopportabile Casanoé ha deciso di… ed era un film stranissimo perché era un film raccontato al contrario, un film fatto per blocchi e piani sequenza, il film cominciava con l'ultimo e si andava a ritroso. Casanoé in occasione della reedizione del film ha rimontato il film in sesto cronologico e vi è sicuro che il risultato è assolutamente sorprendente, non che sia meno sgradevole perché continua ad esserlo, ma è ancora più forte della versione originale e le due versioni usciranno contemporaneamente in Francia a settembre, in riedizione nelle sale cinematografici. Da alcuni anni, da parecchi anni ormai la mossa del cinema presenta ogni anno serie televisive, la parte di cinema che si chiama serie tv. Quest'anno sono due le serie che proponiamo, la prima è 0000 di Stefano Solima, Stefano Solima è all'origine di questo progetto, nel senso che ha partecipato a Team Creativo che ha trasferito in sceneggiatura il testo di Saliano, ha diretto una parte degli episodi, non tutti, altri sono diretti da Trapero e il terzo regista che si chiama, credo, Janusz Metz. Questa serie di cui farmo vedere il primo e secondo episodio e la serie successiva che è The New Pop, cioè la seconda serie dedicata di Paolo Sorrentino, sono entrambe prodotte da Sky, con grandi partner internazionali diversi per le due serie. 0000 è realizzata produttivamente da Catleia e New Pop è realizzata invece da Wildside, sono due modelli ovviamente diversi, antitelici vorrei dire, di serie televisive, che è estremamente interessante, grande attesa per Piltone e Paolo Sorrentino, ma soprattutto grande attesa per l'idea di cosa ha fatto Solima del lavoro di ricerca sulla diffusione del commesso della droga di Saliano, facendo invece una serie estremamente avvincente che non solo non ha nulla da invidiare alle grandi serie americane che abbia successo, ma forse anche qualche punto in più e insomma mi fa piacere, mi sembra giusto che Venezia offrano una ribalta per questo lavoro straordinario che le produzioni italiane e Sky, con un grande investimento anche economico, di mezzi, di qualità, con la volontà di fare delle serie capaci di stare al passo con le grandi serie americane, danesi, israeliane, eccetera, misurandosi da pari a pari con modalità narrative, linguistiche, formali, eccetera. Ecco, credo che questo... Ah no, c'è ancora un evento speciale, nel 1999 ricordate che è successo da due cose, la scomparsa di stare ai Kubrick e la presentazione mondiale del suo ultimo film, Venezia aprì con Ice Weinshot, Kubrick era morto da pochi mesi, per ricordare questo grandissimo regista e il suo coprolavoro che all'epoca ebbe un'accoglienza mista, fredda, come spesso era successo a Kubrick nella sua carriera e che oggi invece ne ha ricordato come uno dei suoi coprolavori. Quindi, ripresentiamo non soltanto Ice Weinshot, ma un documentario, un breve documentario, stanno ancora mettendo a punto il montaggio finale, e sarà, non durerà più di una dozzina di minuti, che ha never just a dream sul film, sulla relazione del film, sui problemi che si deve con la censura americana, eccetera, eccetera. Un evento speciale in ricordo di questo ventesimo anniversario. Il fuoriconcorso ci conclude con il film che chiuderà la mostra del cinema di Venezia, l'abbiamo già annunciato con un comunicato stampa d'un tonno, quindi sul film, perché di questo credo sapete già quanto basta per creare attese, aspettative e curiosità intorno a oggi stesso. No, non è finita, credo che fosse l'ultimo nostro, invece c'è ancora un altro film molto atteso con Christine Sewell, che interpreta Gene Sewell, un episodio della vita, un episodio rammatico della vita di Sewell, dopo il successo europeo, Gene Sewell che torna negli Stati Uniti, si avvicina per curiosità e anche per ragioni sentimentali alle Black Panther di Los Angeles e da quel punto viene messa sotto sorveglianza e sotto oppressione dall'FBI che la considera una pericolosa terrorista con tutte le conseguenze che forse qualcuno di voi ricorderà e che la cronaca dell'epoca ha ampiamente riportato. Francesca, questo è l'ultimo film di Francesca Alchebugi, Vivere, con un grande cast di Muscilana, credo, fino a settembre, quindi proviamo in anteprima a Venezia. Grazie.